Allora, buongiorno e ben alzati, sono le 12, abbiamo appena fatto colazione, allora, oggi notizia top, visto che è uscito il discorso dello stadio, oggi, oggi non sono ancora all'orario perché sono tutti impegnati, ma vi riporto sul canale chi parla col sindaco Sala e chi ha portato il progetto, vi ricordate Alessandro De Chirico, vi ricordate il suo architetto e poi questa cosa ha preso il piede, Sala l'ha presa, l'ha messa in mano anche a questa We Build, insomma una società che poi a Milano fa tante cose, le metropolitane, e adesso hanno sentito già il Milan, l'Inter, Zhang, Scaroni, Antonello, però oggi avremo la voce di chi parla direttamente col sindaco e di chi, insomma, ha portato su questo canale l'esclusiva nel pluriverso, circa un mesetto fa, sembrava una cosa, no? Cosa sono queste cose? Sembrano le figurine, no? Sembrano i plastici di Bruno Vespa, è una cazzata, e invece la ristrutturazione di San Siro probabilmente da me è tanto fomentata, a patto che sia fatta bene e che lo stadio cambi cubatura, ma poi ne parlerò in un video a parte, però ristrutturare San Siro è il mio sogno in stile Bernabeu, poi se viene un pochino meno bene va bene, possiamo fare diversi passaggi, ma oggi sentiremo direttamente che cosa ha detto il sindaco ad Alessandro, consigliere del Comune di Milano, all'architetto, vediamo un po' chi ci sarà oggi, ci facciamo raccontare tutto in anteprima. Ora, questo è un video, insomma un contenuto che faremo più tardi, per quanto riguarda invece l'Inter le notizie sono piuttosto buone, ce ne sono un pochino da dare. Allora, sono partite le grandi interviste, mi viene in mente due anni fa, quando sono partite le interviste con i Chinotti a Natale, quando l'Inter giocava benissimo, ed eravamo straprimi dopo una partenza normale, e poi è saltato tutto. Quest'Inter è totalmente diversa, nella testa dell'allenatore, nella testa dei giocatori, nella testa anche dei dirigenti, che quest'anno, vi ricordo, alla prima, diciamo mini, mini, non dico scivolata, ma alla prima percezione contro Buone e Sassuolo, di qualcosa che non doveva accadere, ha messo un tappo dicendo, no ragazzi, a San Siro no, deve diventare un posto in cui non vince nessuno, e così praticamente è stato da quelle famose partite un po' così strambe contro Sassuolo e Bologna, che poi se ci pensate a un pareggio col Bologna, oggi ci può stare perdere col Sassuolo, che poi praticamente in fondo alla classifica è stato proprio un approccio un po' imprudente, ma poi non si è più verificato, perché poi a parte Genoa e Verona in cui siamo stati oggettivamente un pochino fortunati, poi il resto è stato un cammino trionfale, quindi tante interviste, perché ci sono di mezzo tante cose da dire, quindi la prima cosa è non preoccupatevi, qualcuno mi ha scritto Fabio ti ricordo le interviste, adesso stanno di nuovo facendo le interviste, Lautaro, Darmiane, Ranocchia intervista tutti, sì, ma stanno andando a raccontare una cosa diversa, stanno raccontando tutti la stessa cosa, grande gruppo, grande gestione, grande voglia di arrivare in fondo, in campionato, di vincere, come diceva oggi Frattesi, la stella di portare la nonna sul pullman, come dice Lautaro, come dicono tutti, come ha detto Darmiane, eccetera, e ci ha detto Bastoni, come hanno detto tutti, quindi interviste, ma con i piedi per terra, concentrati sul lavoro, anche Inzaghi ha detto dobbiamo essere concentrati anche quando dormiamo, quindi c'è finalmente la motivazione per andare dritti verso questo scudetto. Ora, se dico all'inizio dell'anno, ma quest'anno andrà così così, sei un gufo, se dico per me quest'anno vinciamo a mani basse, perché poi voglio dire, non è che io le cose le dico a caso, poi mettendoci la faccia so che sono, mi metto davanti ai giudizi, no? Però sai, io qua ho trovato una formazione dell'Inter, l'ho presa a caso, giuro, mica adesso e cazzo l'Arnese in un tombino, ho trovato a caso, a parte che ho scritto Inter Milan, mi è uscito Inter Milano, e mi è uscito una partita col Torino, ma va bene lo stesso, guarda, a caso, ho messo Inter, Inter Milan, volevo vedere come avevamo giocato al Derby, mi è uscito Inter Milano, guarda, Google Search Inter Milano, quindi, mi è uscito, invece, Inter Milan, Inter Torino, no? Questo era, gol di Dumfries, 1-0, 22 dicembre 2021, no? Io guardo la formazione, e c'è, 2021, c'è Andanovic, ok? che era il portiere dello Scudetto, e la difesa era De Vrij, Bastoni, Scrinia, oggi, oggi, il portiere è migliorato, ma era migliorato anche con un'ana, perché Andanovic era in decadenza, c'è un De Vrij che oggi è tornato, perché lo schema, lo schema esalta l'uomo, è chiaro che se non lavaviati lo fai cucinare, e chi deve far cucinare lavavi piatti, avrà i piatti sporchi e le pietanze che fanno cagare, invece è tornato a un certo tipo di gioco, di schema, ma oggi Frattesi ha detto, noi giochiamo così, coperti, e quando ripartiamo, citando l'Atletico di Madrid, possiamo fare male all'Atletico, perché noi, nelle ripartenze, siamo fortissimi, cosa che ha detto anche Bruno Longhi, citando Herrera, della grande Inter, che poi ripartiva in maniera devastante, ok? Quindi, la difesa, no? De Vrij, Bastoni, Bastoni è meglio di quel Bastoni, Campione d'Italia, perché è ancora più forte, percentuali di lanci, robe che va allucinante, Bastoni poi ultimamente, De Vrij oggi è fenomenale, a livelli di Van Dijk, e non c'è Skriniar, ma c'è Pavard, che Pavard prende Skriniar, insomma, e se lo mangia a colazione, centro campo, Ciala, Brozo, qui c'era Vidal, se no c'era Barella, in realtà invece che Ciala, Barella e Brozo, ci sono Ciala, Barella e Mkhitaryan, qui ci sono Dunfris e Persic, che tra l'altro, questo Persic è stato, nel primo anno di Zanghi, il miglior Persic di tutti, per come era cresciuto, ormai verrà in mano, Dunfris c'è sempre, e oggi è tornato in forma, e a sinistra, c'è Di Marco, davanti, che è devastante, davanti, Lautaro Martini, Dzeko, quel Dzeko, quello, forse il migliore di tutti, quell'anno, e il migliore di tutti i Dzekchi, intendo, e Martinez, oggi Martinez è ancora più forte, quindi, non è che le robe le dico a caso, quelli che sono rimasti, sono più forti, sono cresciuti tutti, e quelli che sono andati via, sono stati sostituiti, da gente più forte, perché Sommer e Unana, sono più forti di questo Andanovic, perché Pavard è più forte di quello Skriniar, ok? Perché qui, se non gioca Barella, giocava Vidal, che ormai era la frutta, e invece qui, avevamo in panchina, oggi invece appunto, gioca a gioca frattesi, la panchina è Sanchez, che c'è ancora, Sensi, che c'è ancora, Di Marco, era in panchina, c'è, Darmian, eccolo qua, e qui però avevamo, Satriano, Radu, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini, Vessino, oggi abbiamo in panchina, se vi girate, non ve li sto a nominare, ma da gente che ha giocato nell'Ajax come classe, a gente in panchina, come frattesi, devastanti, quindi bene o male, e comunque, con tutto rispetto, insomma, diciamo che, Arnautovic è più forte di Satriano, e a Cerbi, in questo caso, panchinaro, tra virgolette, più forte di Ranocchia, con tutto rispetto, e che sulle fasce, Carlo Saugusto, e chi fa poi, a destra, o Buchanan, o gli altri, o all'epoca in quadrado, sono più forti, sicuramente di Kolarov, e gli altri, quindi, la squadra è salita, quindi, quando dico, l'Inter vincerà, lo scudetto, in maniera, netta, perché è favorita, lo dico anche, perché guardo i valori, del calciomercato, e i valori, della squadra, che è cresciuta dentro, poi, poi, è cresciuto anche il natore, e si è fissato un obiettivo, in più, giocando insieme, hanno imparato a giocare, hanno trovato uno schema giusto, quindi, così, le buone notizie, sono queste, quindi, nel senso, vedo tanta scaramanzia, ma la squadra è cresciuta, i ragazzi sono sul pezzo, il mister è sul pezzo, la società è sul pezzo, i tifosi sono sul pezzo, e, e quindi, arriviamo alla notizia, poi, quella che riguarda l'Atalanta, quindi, questa partita, è uguale a quella che, recuperavamo col Bologna, questa, è meno decisiva, quella era più decisiva, però, l'Atalanta è più forte, di quel Bologna, però quest'Inter, per le cose dette, e provate qua, davanti a voi, vale, molto di più, ed è molto più forte, di quell'Inter, la prima di Inzaghi, quindi, fiducia, poi l'Atalanta è sempre stata, una brutta, cliente, ultimamente un po' meno, però anche nell'anno di Cooper, quando poi c'è stato il 5 maggio, abbiamo perso in casa, però, insomma, contro l'Atalanta mancheranno dei calciatori, però l'Inter ha dimostrato di saper fare a meno, e di poter fare molto bene, grande, grande, prova di maturità, sarebbe andare più 12, e come dicono qua, sui giornali, sarebbe veramente, chiuderà chiave, la seconda stela, nell'armadietto, insomma, nero azzurro, per il resto, notizie dalla Spagna, visto che dall'Atletico, ci arrivano, insomma, non giocherà Griezmann, ora, Morata sta bene, Griezmann, ha preso sta botta alla caviglia, ha preso una storta, e quindi, salta la semifinale, di Coppa del Re, che poi era un obiettivo, per l'Atletico, contro l'Atletico Bilbao, non ci sarà, quindi probabilmente, cautela, per avere tutti e due, titolari Griezmann e Morata, contro l'Inter, sicuramente, una notizia sui tifosi, l'Inter domina, domina, insieme al Mina, alla classifica, degli spettatori, vedetevi conto, poi c'è anche la Roma, mi pare, però qui parliamo di, qui parliamo di, non lo so, una media di 73 mila persone, forse voi adesso, magari quelli giovani, che vanno allo stadio, da poco, da qualche anno, ma, rendetevi conto, che addirittura, nella Champions League, vinta con Mourinho, c'erano le partite del girone, dove c'erano, tanti spazi vuoti, ma anche in campionato, proprio di sedevi in trio, mi ricordo la prima partita di Eto, Inter Parma, o Inter Barrio, mi ricordo, primo gol di Eto, e in tribuna, praticamente, c'erano, ampi spazi liberi, in più venivano invitati, i bambini, perché nell'angolino, si mettevano i bambini, per riempire un po' lo stadio, c'erano le gratuità alle scuole, oggi, oggi zero, quindi, veramente, una classifica atomica, che vi volevo dire, dare dei particolari, ma mi sa che è saltata la rete, perché qua gira tutto, qui sta diluviando, e non gira un cazzo, va bene, tanto mi ricordo, tutto il tuo memore, no, volevo dirvi, dell'Atletico, che mette tutto, sulla partita con l'Inter, quindi fa riposare, persino, chi ha qualche acciacco, anche nella Coppa del Re, le interviste, non sono un problema, perché quest'Inter, è molto cambiata, è cresciuta, per quanto riguarda, il mercato, vi dico due cose rapidissime, mentre per lo stadio, aspetto oggi, il consigliere De Chirico, per quanto riguarda, il mercato, dico che finalmente, è una roba che dicevo ieri, dicevo, ma quando cazzo si parlerà, del mercato delle altre, perché l'Inter, non solo viaggia, finalmente, con i complimenti di tutti, persino di gente, come l'IPI, l'apostrofo IPI, perché ormai l'Inter, è solo un complimento, ed è giusto così, perché gioca veramente bene, e perché è arrivato, a un livello di maturazione, totale, no, e, poi non ci sono polemiche, non ci sono più le sbracciate in campo, non ci sono più le, insomma, sono molto contento, tutto è stato sistemato, le altre invece, sono in difficoltà, tanto che, al Milan, qualcuno difende Pioli, qualcuno no, ma si parla di un nuovo allenatore, alla Juventus si parla già di mercato, con quattro cambi, questo rimane, Chiesa fischiato, Allegri che difende Chiesa, però anche Allegri in discussione, però poi è arrivato addirittura, c'è questo film di Lippi, che deve uscire, c'è Moggi che difende quello, che però parla di, di, di Allegri, che meriterebbe, insomma, il discorso è che la Juventus, è già poi tratta nel futuro, e si parla già di mercato, perché di quest'anno, non si parla più, l'ultima notizia, è quella che, ovviamente, siccome, ora, Inzaghi, è diventato, non bravo, bravissimo, perché, i fatti dicono questo, ovviamente, i giornali, hanno messo, anche se io, quando ho detto, a contro campo, a contro calcio, questa cosa, mi hanno preso in giro, è vero Faina, che mi ha preso in giro? in realtà, quando io ho detto, ma, insomma, va bene tutto del Zerbi, va bene tutto quello che volete, va bene Tiago Motta, ma, Inzaghi, così come ha fatto molti errori nel passato, poi, dall'anno scorso, nel finale di Champions, a quest'anno, ha dimostrato di avere, la capacità di raddrizzare la barca, ha preso consapevolezza, è cresciuto, ha migliorato, e ha reso il gioco dell'Inter, molto fluido, ripartendo dalle basi, no? E, ed era ovvio, che qualcuno si interessasse a lui, e, a quanto sembra, dalle notizie, dalle fonti, le loro, ci sarebbero già, due o tre squadre, che avrebbero chiesto, insomma, informazioni, poi non ho capito, qua, come hanno messo questa notizia, eh, però, l'ho trovata, mi è venuto su un gasperini, ecco, vedi, c'è l'Inter Atalanta, mi è venuto su un gasperini, allora, eh, il titolo è su Sport Milans, mercato live, Chelsea e United, pensano a Inzaghi, questa è la notizia, uscita così, giusto per, ecco qua, due big della Premier, pensano a Inzaghi, il lavoro di Inzaghi, sulla maniera dell'Inter, bla bla bla, fa notizia in Premier, secondo tutto, vabbè, tutto sport, chiaramente Chelsea e United, hanno posto informazioni sulla situazione, dice, sarebbero discorsi a pagare 8-9, ma, eh, il tecnico in scadenza nel 2025, sarebbe, il merino anche di Liverpool e Barcellona, ma l'Inter vuole continuare con lui e insieme a lui si parlerà di rinnovo a fine stagione, tra l'altro, anche qui mettono di mezzo Zhang, che verrebbe ad aprire anche per parlare di rinnovo di Inzaghi. Per il resto, eh, la gazzetta, la distanza, la forbice, è 2 milioni, quindi non sarebbe una cosa da, ecco, qui io sto dalla parte di Lautaro, però, scusate, io qui sto dalla parte di Lautaro, ma scusate, ma Lautaro è un campione pazzesco, l'hai pagato, poco, perché sei stato anche bravo, è sto bravo Auxilio, è sto bravo l'Inter, Zanetti, Milito, eccetera, ora Lautaro è uno che da un lato, no, dice, potrebbe fare il record di Guain, 36 gol, battere il record, dall'altro, stiamo parlando di un campione assoluto, campione del mondo, capitano, e sta litigando per 2 milioni, io lo so che 2 milioni pesano, ma stai parlando dell'Inter, oggi Lautaro è l'Inter, è vero che in passato, il Barcellona ha subito il fascino di Messi, ma oggi lui è l'Inter, cioè piuttosto prendi, non lo so, uno tipo classico, la classico, non ci servi e il tuo milione e mezzo lo diamo a Lautaro, ma non metti in discussione, boh, non mi piacciono queste trattative, perché poi, la trattativa, fa cadere i coglioni al cacciatore, perché, è vero che non è che devi andare come Moratti, che diceva quanto vuoi e te lo do, ma è anche vero che non puoi tirargli il 100 lire, perché vuol dire che non è una questione di soldi, vuol dire che non gli stai riconoscendo il ruolo che ha, ecco, speriamo che si risolva, perché sembrava tutto fatto, invece, c'è una forbice distante, e lo ha detto anche Lautaro, comunque, vabbè, per quanto riguarda il mercato allo prossimo, stanno tutti già rosicando, perché ci siamo già sistemati, e gli altri invece sono in alto male, insomma, tutto va per il meglio, quindi complimenti a tutti all'Inter, in più, ecco il dato, con i suoi 73.049 spettatori di media, dopo 25 partite, l'Inter al momento saldamente in testa, nella classifica con le maggiori presenze allo stadio, secondo il Milan ha 71.950, terza la Roma 62, poi Napoli 46, Lazio 43, Juve 39, quindi l'Inter ha 70, questo lo dice anche Fratesi nella intervista, giocare con un San Siro, che a volte ha dei picchi a 75.000, io penso che se l'Inter oggi fa uno stadio da 100.000 lo riempie, lo riempie, perché venderebbe più ammonamenti, qualche biglietto in più nelle partite clou, potrebbe arrivare, 100, ma 90.000 li riempie ogni partita, e questo è il sogno di ogni calciatore, di ogni tifoso, un po' meno di chi magari, come me, è un po' anziano e va allo stadio, e si ricorda appunto, come dicevo prima, le partite quelle dove andavi, parcheggiavi sotto la curva, sotto la tribuna, poi camminavi, c'erano quelle partite tra vivette e tranquille, no? Ora, da Inter porderone, ma già all'epoca di Spalletti, Coppa Italia, anche la Coppa Italia è diventata una partita in cui lo stadio è pieno, e quindi bisogna partire prima, il traffico, ma non ci lamentiamo perché va bene così. Sul discorso societario, ripeto, ne parlavo ieri con Luca Cohen a Derby quotidiani, quello che sembrava Inter, Arabia, è passato al Milan e sul discorso Zang, non ci sono notizie, ma siamo fermi al video di ieri sul discorso dei rinnovi. Io vi do appuntamento a oggi con Alessandro De Chirico per la questione stadio, e per dirvi ancora una volta qualcosa in anteprima, come l'altra volta, e quindi vi aspetto appena io mi sono messo intorno alle 16 o alle 18. Comunque, vediamo un po' quando sarà libero il consigliere, questi politici qua del cazzo che si fanno aspettare, ok? Anche se amici, forza Inter!